Atleti abruzzesi protagonisti al Cable Park di Milano presso l'idroscalo del capoluogo Lombardo dove si sono svolti campionati italiani di categoria di Cable Wakeboard e dove il grande mattatore è stato Luca Polidoro in forza al team Abruzzo Wakeboard che si è aggiudicato il titolo di campione italiano 2014 di Cable Wakeboard nella categoria Open Man. In evidenza anche Carlo Orlando, atleta dello stesso team, che ha portato a casa la medaglia d'oro nella categoria Junior Men. Entrambi gli atleti abruzzesi si allenano stabilmente presso l'impianto Cable Park di Manopello Scalo un impianto, quello pescarese, innovativo e all'avanguardia che permette di praticare attività di scinautico e wakeboard senza l'utilizzo di un motoscafo. Questo genere di sport molto innovativo, ha detto Luca Polidoro sicuramente soddisfatto rappresenta oggi per me una grande passione che mi permette di divertirmi allo stesso tempo stare insieme e fare sport con tanti amici. Grazie. Grazie.